La mia vittoria più bella sono stati i mondiali del 2023 a Valencia perché sono riuscita a dare il massimo in tutti i miei esercizi e a fare tutto quello che volevo. Sono stata molto contenta anche se non ho raggiunto l'obiettivo che ho raggiunto l'anno prima, ma ero più soddisfatta di aver fatto i quattro esercizi al massimo. Grazie per la visione!